Ugualmente Switch, never laggy, switch, switch Se ti do la ki di Varoant, mi fai sub? No, mate, tienila per te la ki Dark Voodoo Oi, moi Passatevi il sub e benvenuto alle gagne di cane Bella cane a 100 circomplesso 3 mesi A 100 circomplesso 3 mesi di Dark Voodoo Grazie mille del supporto Ribbenvenuto alle gagne di cane Il nuovo badge sul canale 3 mesi Uno Uno dei mesi più importanti dopo il secondo Come mai mid? E perché top mi sono rotto il cazzo Mentre non mi chiedo Mi vado mid Basta Se finisci con 10 kill sopra le morti Ti do 10 euro 10 kill sopra le morti E se faccio 10 morti sopra le kill? 20 euro? Ma in realtà se te la volevo vedere prima che me la consigliassi tu, eh, vale, eh Solo che non mi è andata di startarla Lei le mi ha detto, cavolo, avevi idea Io ho detto, beh, diciamolo insieme C'è stata una coincidenza, capito? Mi vede tu a me Eh no Eh no Gli offro un servizio gratuito già Sì, ti sto dando ragione Sì, ma era una ragione nel senso che se mi avessi consigliato tu L'avrei sentito L'avrei comunque provato a vedere Cioè, tu stessi saremmo consigliato L'ho provato a vedere Solo non mi sono piaciute Come la casa di Kart E celebrity hunted Ragazzi Ieri ho fatto vedere a Valentina Piomei Deo Emi gratis Non gli è piaciuto Mi dite come Che cosa Come dovrei comportarmi Una ragazza del genere Se non lo vuoi Ma perché? Dovresti lasciarla Ma perché a Dawn Più a metà sono cringe Dovresti sposarla instant Fanno schifo Neanche Flavio le trovi divertenti Ci sta Mettiti con me A cani vi faccio le battute Di cui si parla di cazzi E te Manco alle medie Ma a te piace Una serie tv dove stanno dentro una casa Per due serie di stagioni Dentro una banca Non vedo nulla interessante Di gente che fa roba Che potrei fare pure io E la fallo E' il loro carattere Che è semplice semplice E intrattengono quella semplicità Mi sono sempre piaciuti Perché fanno tutte le cose Che io magari non farei in realtà Cioè non andrei mai A rubare a casa Di chi mi ospita Cioè E' offendere le persone Mi fanno un favore Per dirti Ti metti la felice Sotto la notte E mi discorre che ha porto cervo Complimenti Oh gg Ce l'ha già fatto Noble gank Comunque Jarvan e Pantheon Ah Su E' il territorio non volevo prendere Ma c'è non più CS Allora contro Seras O gioco aggro O gioco aggro Cioè io non posso giocare safe Contro Seras Flash tipico Va con Yasuo No Forse dovrei giocarci A me fa ridere come se approfittano della gente Mi fa ancora fidare della gente Da spaga A volte ridendo A volte un po' meno A me fa ridere Il fatto che sia semplice Non è nulla di montato È il fatto che tutte le cose che hanno fatto fino ad adesso così Sono me sono montate Per dire Sono nei film Invece quella è una serie che secondo me Non sono montate Ma gli attori sanno che loro comunque fanno ste cose Magari li aiutano Non so Però mi piace sta cosa Magari posso montare Chi lo sa Però mi fanno ridere Mi fa ridere la loro semplicità E perché in una cosa del genere Non l'ho mai vista Tra l'altro La mia vita delle cose sono recitate palesemente Sì Qualche gang è sicuramente recitata Ovviamente Ed è strano che abbiano i contatti con tutti Ah sicuramente l'altro presupposto che se penso che metà delle cose sono recitate Non la vedo Probabilmente Perché sarebbe falso Però non penso che siano metà delle recitate cose Qualche gang No gang Cioè loro sono quelli che andavano Da Dalle persone Lo ho al Poggio Nice Dalle persone a fargli i cori fuori dallo stadio Quindi c'hanno veramente la faccia come il culo C'è fuori A prenderli fuori in tutta la piazza Quindi sinceramente c'hanno veramente la faccia come il culo Boh il fatto è che come dice i cani Magari non sono proprio architettati Però i personaggi famosi Sanno come sono fatti loro due E quindi non lo prego No non solo quello Vincent Vega Il fatto è che loro c'hanno veramente la faccia come il culo Non si vergognerebbe veramente a chiedere una cosa Capito? Quindi Sì vabbè sicuro Vincent Ma se vuoi piacere in Italia Deve essere un po' falso C'è poco da fare Cioè devi Esagerare E' più omedeosi bro Ho fatto vedere ieri a Valentina Non gli è piaciuto Queste cose non mi piacciono Offesare madri Cose così Non capisce che dietro l'offesa della madre C'è Un'altra cosa Però vabbè L'ice trirò appena posso Fine my bad Oh cazzo Non vede il contorno Però Tox sta incontrata a quattro mesi Grazie mille Tox Rivenvenuto ai cani cani bro A te piace mi c'è un panettone Romani e la gente scroburica No Ho finito il tornado Porca puttana Non sono uscito appena tornato nessuno My neto My bad neto Sto distendo troppo Non mi hai fatto male dell'altro che ti diverta Ma in realtà Non è che non c'è nient'altro che mi diverta Perché Masterchef mi diverte In un altro modo non mi diverte Per dirti Eh si vega Stiamo solitando Si è rifullato con l'ignite Veramente Che sustain cazzo Ma si ma lei è strana Comunque C'è il pendico mi piace Le abbiamo idea Le non piace Scherzo in chat Eh ma ti piacciono i cinema e i toni Oh ma deve sempre offendere Non lo so perché È cattivissimo sotto sto aspetto Davanti agli altri diventa un mostro Valentina Allucinante Ma soprattutto è così credo Ma è assurdo È il modo in cui lo dici Che lo rendo un'offesa A te piacciono i panettoni Romani e gente scorburica Che offesa è scusa Che è un'offesa Che è un'offesa Che è un'offesa Non so che fare l'execution Che poi hai iniziato tu a dire Che non mi facevano i video di ieri No io ho chiesto in chat Un consiglio Dicendo ragazzi A Valentina non mi piace Non è più Non è una metodologia Non è gratis Che cosa dovrei fare con lei Questo ho chiesto Era un consiglio Volevo un consiglio della chat Tu sei entrata E hai tiltato Trovano male top Shana sta giocando molto bene Imo Come un danno gli ha tirato Oh cazzo E dai no Oh 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 Ugh Oh Se avessi fatto la prima set l'avrei hittato, sto spavando R. Se avessi fatto il 3 all'ash era una cosa simpatica dire in chat, non era nient'altro, è un like bot, a top 1 lo si metceva più alta, Jarvan mi ha assitato, però ecco non ho giocato male, cioè 2-3-1 però Ho dato molta pressione, sinceramente C'è Jarvan qua, vero? Pure la mia, tu hai un po' più flammato, ti sei messo sulla difensiva Fai solo io lo streamer, mica te scusami Eh, che cazzo Fermalosa, si è un po' fermalosa Adesso tilta sicuro Io non sono fermalosa Adesso mi tilta, dai basta, basta se no tilta Pushiamo un'altra web e regaliamo Ma sto set è in piana E Sono in game ma non me la sono presa Meno male, meno male Meno male l'ora che non si era presa Allora possiamo continuare Penso ci fosse offeso un po' Allora possiamo continuare Vabbè, Westcog è la mia donna però Al limite glielo dico io, non tu Scusami eh È la mia donna Al limite glielo dico io Non tu, per favore Cane continua Mim dei funerali canesi No dai, dai cuccia Cuccia Ulti di Senna, ulti di Jarvan, Pantheon, Mid Can I play this game? Can I play this game, please? Porca puttana Ho giocato tutti i mid Gioco top, tutti i top Gioco bot, tutti i bot E mi avete rotto il cazzo Ma perché me, cambio di nick Mi chiamo No one Mi chiamo no one Mi chiamo Mi chiamo UD al noon UD al noon Così mi chiamo Questo serial mi sembra un po' troppo pratico eh Oh cazzo Non è come sembrano Flavuti Sì Dovrei fare execution C'è un bel po' di sustain Questa da quant'è che è qui Da un bel po' Trappico al zero Iaso È colpa mia adesso Hanno cancato solo mid Hanno cancato È colpa mia Ma certo che siete strani eh Ma la loro bot Non è tanto ed Perché hanno collassato anche loro Cioè la loro bot È stata cancata da Da Pantheon E Jarvan Capito Quindi in realtà hanno preso vantaggio generale Ma la loro bot Non ha vinto No Già c'è uno staga Come non fare la video bot Perché ero troppo behind Ma la loro bot Grazie. Ci killa, Imo. Non ci sto scendo in merda che seguo le call è un pezzo di fango. Se la si affatto ad oggi non mi aspettavo sinceramente, pensavo andasse vicino al tank hench, per questo ho fatto la culla. Eh, Plux, stacco per le sette e mezza, uni tra due reti in realtà. Una win, una lose, una win, una lose. 0-100 non gli asco. Jarvan, only mid. Yooku da one bot. 1-1 mafter. Mi piace troppo scrivere uno pure mafter. Mi sembra che sei tornato, ai tempi di COD. E benvenuto alle gagne di cane. joined là in mezza. I achtenuti my opponents. Walk! Turchi! Turchi! Ho giocato malissimo Ho giocato male 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 Grazie mille Mario Natti 3 mesi Twitch Prime Arri benvenuto alle cani-cane Terzo mese Nuovo badge sul canale E il mese più importante dopo il secondo Grazie mille E vai Shad 7 mesi Twitch Prime anche lui Purtroppo nessun badge per il settimo mese Ma grazie mille del supporto Però benvenuto alle cani-cane Per il settimo mese Oh oh no Oh Kaido Kudikan Kench Vedate Il TPS Ailas È preso la chiesa Sotto a Kench Ma io te così se muore Eh la chi tu te in seco Oh Mazzate champion Vai Vai Ult Mamma mia Che giocatore Vai Buono Bravo Che giocatore Che giocatore È preso la chiesa Mi sa le smanno io Ehm Sto per perder Metta il coso 22 Ma non ci credo oh oh dietro non ci credo il comeback raga eh c'è l'herald qua gli faccio prendere un'interdittura almeno no no eh roba che se non coverano top tanto quel german che sta lì facciamo pure il inferno non morì fine creare pressure bot pantone top vai facciamolo instant vai arrivo subito arrivo subito non ci credo andiamo andiamo facciamo facciamo tim panchon panchon altato sulla torre un piano è custo e zriga comunque mamma mia che cazzo fa silas che cazzo ma come giocano oddio 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 set no 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 fino a cosa se avessi preso salas qua di ulti ah l'ho lo prende zri al mesa no 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 ecco ancora ulti up no è il loro ecco c'è il loro saras andare back andare back che palle ho sbagliato quello giorno meglio è usato anche over ignite comunque non c'ho senso ignatare la no brutto zira sta mancando la torre devo andare back cosa cazzo state facendo what are you doing e zira è entrato in tank di torre poi è dovuto riuscire io qua ho sbagliato ho fatto flash ignatare ignatare non sarebbe servito perché non c'ho il flash up ma oltre a ciò sono andato in un brutto spot io credo di killarlo quanto non è buono se vede ho bloccato la ulti di senna qua ma il tornado dove cazzo è andato manca poco la blood vado a fare la blood con la blood dovrei riuscire a killare tutti uno buono ma lo so sapete non so se silas possiamo andare a fare Nashor se no eh 3 diamo drago per Nashor prima che c'erano 7 secondi di scarto non è back mannaggia la puttana tank and c'aveva ancora la doppia wap eh non devo ultrassare non ho sbagliato io ho sbagliato io qua ma è bad non so perché ero sicuro avesse mangiato jarval ovviamente non l'aveva mangiato l'ho pure visto vanno pure il bar my my bad l'ho già molto più safe la domanda è cosa build adesso dovrebbe dare tipo la qss per rilevare l'ultimo di pante credo ci possiamo andare qua non lo so mica devo fare tipo scimitarra oppure è buono per chi mi dà mr l'hanno già finito in realtà io infatti questo coglione così mi rompe il cazzo è Grazie. Grazie. Aspetta, che cazzo fai? So pre-mid? Per forza. Però io ecco, siamo arrivati sulle azioni, se non lo killate... Ok, chi è là? 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 Ok, chi è là?